Buongiorno, bentrovati, mercoledì 12 luglio 2017. Consueta rassegna stampa, mattino 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi che troverete questa mattina in edicola. Partiamo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro, partiamo e iniziamo con l'edizione di Pescara. Ecco qui inquadrata la prima pagina, sfollati in comune, arriva la polizia, si parla della vicenda delle case sgomberate nel Vialago di Borgiano a Pescara. La famiglia di Rancitelli contesta il ricovero provvisorio in comune, ma la situazione, poi vedremo anche un servizio, andremo ad ascoltare le parole del vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioli. Pian piano dovrebbe produrre le prime novità positive proprio nelle prossime ore. Poi Abruzzo, il bello deve ancora arrivare, si parla di trabocchi, di turismo, della stagione estiva della nostra regione. Poi nelle cronache, vedete, Val Pescara a fuoco in fumo 200 ettari, incendi negli ultimi due giorni nel Pescarese. Fortunatamente nella scorsa notte, queste sono le notizie degli ultimi minuti, non ci sono stati altri focolai. Dunque la situazione sta lentamente tornando alla normalità, grazie anche al grande lavoro dei vigili del fuoco. E poi muore a Parigi stilista pescarese di 46 anni, poi Montesilvano, altri senegalesi sgomberati dalla Pineta. In basso si parla di sport, di calcio e del Pescara che è al suo terzo giorno di ritiro a Rivisondoli, sudore e dieta, la cura di Zeman, la giornata tipo dei biancazzurri nel ritiro della cittadina del paese in provincia dell'Aquila. E siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo. Bimbo di un anno beve detersivo, paura, martinsicuro, intossicato con una capsula di liquido per lavatrice, è stato ricoverato in ospedale. Poi il Consiglio Comunale di Teramo, Brucchi annuncia, riapre la scuola. Risorgimento, a Roseto riapre l'Odeon, ma niente più cinema, Crognaleto a fuoco, 4 ettari di bosco. In basso Giulianova, via Libera, gli eventi estivi, c'è l'ok della commissione, si comincia con notte alta. E poi a Silvi, rapina per vendetta ventenne. Condannato, prima pagina del centro edizione di Chieti, violenta. La figliastra, tredicenne Lanciano, camionista arrestato, era stato denunciato dalla mamma della ragazzina. E poi il vastese in fiamme, caccia i piromani, fuoco vicino alle abitazioni. Anche dunque in provincia di Chieti, problemi per gli incendi, un po' così come in tutta la regione. Poi Chieti, panoramica autistine sciopero a Villa Santa Maria. Bimbo, punto da uno sciame di Vespa, è stato ricoverato in ospedale. Poi Chieti, maturità, ecco i cento e lode, pubblicati i primi quadri alle scuole superiori, con tanti cervelloni. Poi c'è l'intervento del papà di Noemi sul caso di Charlie. Andiamo ancora avanti a vedere la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. Pioggia di soldi per la ricostruzione, altri 667 milioni di euro dal Cipe, presto gli interventi anche nelle case Ater. Poi politica ad Avezzano, tedeschi con De Angelis scattano le epurazioni PD per il dopovoto ad Avezzano. Ortucchio, morto bancario, che si era dato fuoco sull'autostrada. Poi a Sulmona il mercato cambia sede per un mese. In basso, ancora Avezzano, disabine in lotta con le poste. L'azienda si scusa, un familiare, 11 giorni e ostacoli per sistemare il conto. Questa la denuncia e poi il set del film, perché l'attore mette le blanche in Ferrari, girerà alcune scene di questa nuova serie, di questo film, sul Gran Sasso. E siamo alla prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. I conti del Pescara sono che il presidente Sebastiani, dopo la nomina dell'ispettore del Tribunale delle imprese dell'Aquila, si dice tranquillo il ricorso. Certe contestazioni seguono sempre un no a qualche richiesta di Iannascoli. Dunque torna la querelle tra l'attuale presidente del Pescara e l'ex amministratore delegato e socio di minoranza della società biancazzurra. L'altro ieri c'era stato il pronunciamento del Tribunale delle imprese dell'Aquila che aveva autorizzato una ispezione amministrativa nel Pescara. Cambiamo pagina, aeroporto, 5 milioni alla saga dalla regione Abruzzo. E poi algoritmo pazzo, professori rivolta contro l'Esodo, cattedre a centinaia di chilometri da casa. Ieri la manifestazione davanti al Ministero. E poi in alto vediamo altri titoli. Abbasto, rifiuti raccolta ai baschi azzurri sotto processo. L'ex giunta la penna, poi Avezzano, morto il bancario soccorso mentre stava bruciando nella sua auto. A Lanciano, abusi sulla figliastra di 13 anni, camionista finisce in manette. C'è anche un richiamo di sport, il calcio giocato, parliamo del Pescara. Mister Zeman, problemi di abbondanza, quasi 40 giocatori a rivisondoli a disposizione del tecnico Boemo. E poi la morsa dell'AFA nella nostra regione. Oggi giornata da bollino rosso, caldo africano con colonnina vicino ai 40 gradi. E poi Giulianova, vedete in basso, finanza in comune, sentita la segretaria. Chiudiamo con le prime pagine con quella del quotidiano alla città, concorso ASL alla Terramana. Dopo quattro anni di selezione per un posto da impiegato, sbancano politici, dipendenti interni e figli d'arte. Poi vedete la foto a centro pagina, emergenza, incendi nella nostra regione. Ma come abbiamo visto la situazione va leggermente migliorando. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. Andiamo a vedere invece, lo faremo tra qualche istante, le prime pagine dei giornali nazionali che ovviamente trattano argomenti di carattere interno ma anche di politica internazionale, di cronaca internazionale. Partiamo dal quotidiano La Repubblica, gli USA all'Italia, fate di più in Libia, Migranti, primo sì a nuove regole. Triton da rivedere, la Corte dell'Unione Europea potrebbe far saltare il patto di Dublino ed il collocamento dei profughi. Poi vedete Russia Gate, Trump inciampa nelle mail del figlio. Notizie compromettenti su Clinton, fantastico. E dunque si parla di questa vicenda, delle problematiche che l'attuale Presidente degli Stati Uniti sta attraversando. E poi c'è l'intervista su Repubblica al Vice Presidente del CSM Giovanni Legnini. Intervista a tutta pagina e trasparente per le nomine. Niente clientele, dunque queste le parole del Vice Presidente del CSM nell'intervista rilasciata al quotidiano Repubblica. E poi siamo al tempo di Roma. Bon pressi malato e libero dell'Utri perché resta dentro, questo è il titolo del quotidiano romano, l'assassino del commissario Calabresi graziato da Napolitano per l'ex senatore un accanimento indegno. Domani ci sarà la decisione e poi il messaggero deficit verso lo sconto dell'Unione Europea. Bruxelles favorevole alla richiesta italiana di flessibilità sulla manovra, ma servono garanzie. E poi Olimpiadi, Parigi fa festa grazie all'autogol di Roma, l'ok del CIO a capitale francese per il 2024 e a Los Angeles per il 2028. E poi Rivoluzione e Concorsi, una selezione unica da tenere ogni tre anni. Piano del Governo per evitare grandi raduni per pochi posti, una sola gara per i ruoli vacanti. Siamo alla stampa di Torino, Lapinotti agli Stati Uniti, l'Italia è pronta ad andare a racca, intervista al Ministro della Difesa, ci saranno più carabinieri anche per Mosul e poi la lunga estate degli incendi con roghi in diverse regioni italiane, tra cui come abbiamo visto anche l'Abruzzo. Il Fatto Quotidiano salva banche, via le modifiche, papà Boschi non rischia nulla. E poi Libero, Boldrini, giù i palazzi fascisti, Renzi, le Olimpiadi. A Napoli e poi anche un titolo di gossip, se così possiamo dire, anche per alleggerire un po'. Isoardi bacia un altro, lui se ne sbatte e lui sarebbe il leader della Lega Salvini. Salvini ha di che consolarsi. Dunque sarebbe finita la storia tra la presentatrice Rai e il leader della Lega Nord. Il Gazzettino di Venezia, banche, segreto dell'Unione Europea sul salvataggio, polemiche sul no alla divulgazione dei dettagli dell'accordo governo intesa. Il Movimento 5 Stelle contro la fiducia al decreto. E poi vedete questa foto con questi due lupi, il Veneto sui lupi, vota la linea dura, via dal piano di protezione dell'Unione Europea. E poi il giornale senza limiti, l'ultima della Boldrini, via i monumenti fascisti. La Presidente se la prende anche con l'arte del nostro Paese. E poi il manifesto sullo Ius Soli, maggioranza a rischio. Poi vedete la foto a tutta pagina dell'ex Premier e segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi. Oggi leggiamo questo trafiletto più in basso. Oggi il segretario del PD si presenta alla stampa con gli avanzi del suo libro, già da giorni generosamente anticipato dai media italiani. Avanti è un'operazione mediatica per alzare il fumo della polemica con l'Europa e con il suo governo. Padoan sbotta, non mi riguarda. E dunque ci sarà anche la presentazione nei prossimi giorni del nuovo libro dell'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il mattino di Napoli, deficit, l'Unione Europea apre all'Italia. E poi la tragedia di Torre Annunziata, ricorderete il crollo di una palazzina pochi giorni fa. A dieci indagati, tra questi c'è anche l'amministratore. I condomini avevano paura, lui li rassicurò, come leggiamo da questo titolo del mattino. E poi il secolo XIX. Pinotti, Italia pronta ad andare in Siria all'intervista al Ministro degli Esteri. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno. Migranti intesa in alto mare, l'Italia sbarchi in altri porti dell'Unione Europea. Frontex apre, ma solo a parole. Renzi fiducioso, sul deficit vinceremo. La partita con l'Europa a venire. Francesco, donarsi via piena alla santità. Si parla della lettera pastorale per la beatificazione e canonizzazione di quei fedeli che offrono la vita per il prossimo, accettando una morte certa. Dunque si parla di questa lettera pastorale di Papa Francesco. Poi a centropagina, altri guai per Trump, dalle mail del figlio. Abbiamo visto anche su Repubblica. E a venire era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in esame. Ora possiamo tornare così alle cose di casa nostra, andando a vedere le pagine interne dei nostri quotidiani. Partiremo, lo faremo tra qualche istante, dalle pagine interne del quotidiano Il Centro. Poi andremo a vedere anche, ovviamente, il messaggero Il Quotidiano della Città. Pagina 2 del Centro. Si parla delle grandi bellezze della nostra regione. Patrimonio dell'umanità, faggete, ma non solo dopo la decisione dell'UNESCO. In Pol Eremi Celestiniani, perdonanza e serpari di Cocullo. E si fanno avanti, vedete, nella pagina successiva, gli antichi trabocchi. Tante le bellezze della nostra regione che rappresentano davvero un patrimonio dell'umanità. Poi ci sono le pagine interne di cronaca nazionale ed internazionale. Lo scontro con l'Europa sul deficit, l'emergenza migranti. Poi l'estate rovente con gli incendi in molte regioni d'Italia, tra cui l'Abruzzo. Poi vedremo anche nel dettaglio quello che è accaduto nelle ultime ore nella nostra regione. Poi una notizia che riguarda l'Isis, perché resta il mistero su al-Baghdadi. Sarebbe morto, anzi no, presto ci sarà un nuovo califo. Andiamo avanti per arrivare alle pagine di cronaca provinciale del centro. Partiamo da Pescara, emergenza a casa, protesta al centro operativo. In comune arriva la polizia per la protesta in particolare di una famiglia di sfollati di rancitelli. Slittano, vedete in basso, le prime assegnazioni provvisorie. L'Inps ritarda le verifiche sui disabili da inserire in graduatoria. Blasioli dice, sono otto le abitazioni pronte, potrebbero diventare anche nove. Noi abbiamo ascoltato proprio il vice sindaco di Pescara sulla questione riguardante gli sgomberi di Via Lago di Borgiano. Ascoltiamo. Buone notizie per le famiglie sgomberate dalle tre palazzine di Via Lago di Borgiano a Pescara. Nelle prossime ore ci saranno infatti le prime assegnazioni di otto appartamenti. I lavori di altri 46 alloggi da assegnare termineranno prima dei termini inizialmente stabiliti. Lo ha detto questa mattina il vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioli. Questa mattina potrebbe essere già pronta la graduatoria provvisoria dei primi assegnatari. Questa graduatoria poi verrà sottoposta all'Ader, che naturalmente è il proprietario degli immobili, la quale la sottoporrà a validazione. Quindi significa che questa sera sul tardi o al massimo domani mattina già potremo provvedere con l'assegnazione dei primi immobili. Gli immobili sono passati intanto da 7 a 8, quindi questa è un'altra notizia positiva, e a fine settimana potrebbero diventare addirittura 9. Nel frattempo, giovedì, si passerà alla messa in sicurezza di altri 46 immobili che dovevano essere pronti dalle prime stime entro il 15 settembre, con un tempo di lavoro di circa 60 giorni. Però con l'Ader si è concordato di fare in modo che non ci siano soltanto 4 ditte a lavorare, ma ce ne siano molto di più, cioè 15, in modo che le ditte possono lavorare contemporaneamente. E il tempo di restituzione di questi immobili all'Ader e poi nuovamente e provvisoriamente alle famiglie nel frattempo sfollate molto prima del 15 settembre. Da domani forse si comincerà piano per piano, cominciando dagli ultimi piani, all'accesso delle singole famiglie, accompagnate appunto dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Municipale, dalla Protezione Civile e dall'Ader nei singoli appartamenti. Questo per fare uno stato di consistenza di quello che c'è all'interno degli immobili e per permettere all'Ader di fare in modo che la chiusura temporanea che c'è adesso sotto i palazzi sia una messa in sicurezza definitiva. Restiamo sempre sullo stesso argomento. Questo edificio è vecchio, abbiamo paura che crolli tre inquiline di via Buozzi, siamo nella zona della Marina Nord e chiedono all'Ader di fare subito i controlli di staticità. Ci viviamo da 54 anni, l'azienda si fa vedere solo quando c'è da pagare l'affitto. E poi in basso, concerti gratis per gli sfollati, il cantante di Felice si esibisce per gli inquilini sgomberati. Prima tappa. Ieri sera lo vediamo, vediamo il cantante di Felice insieme al consigliere comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli. Stilista pescarese muore a Parigi a 46 anni, Raffaele Borriello stroncato da un infarto, oggi la salma rientra in città, venerdì i funerali nella chiesa Stella Maris. E poi la cronaca. Rogo su una barca da di porto, ieri pomeriggio allargo di pescare allarme per 5 persone, intervento risolutivo della guardia costiera. E poi incidenti stradali e rilievi, oggi l'incontro dal prefetto dopo la polemica dei sindacati che contestavano il fatto che fossero anche gli agenti delle volanti ad occuparsi dei rilievi degli incidenti. E poi gli amici di Porta Nuova donano una carrozzina per il mare ai disabili. Cronaca ancora in basso, ruba l'abbonamento del Pescara, arrestato un 43enne. E poi città Sant'Angelo si ferisce in azienda, soccorso in elicottero. Poi aggressione in un supermarket di Silvi, rapina per vendetta, ventenne pescarese condannato a Teramo a tre anni e dieci mesi. Bus e disservizi, costi alti per fare nuove corse, l'azienda del trasporto unico regionale, la tua ribatte così alle contestazioni di utenti e popolazione studentesca che reclama linee e mezzi più efficienti. Andiamo poi nella parte bassa della pagina, Algen il fiume, aggiorni la polizia, Del Vecchio annuncia l'intervento per evitare la putrefazione, siamo nella zona della Madonnina. Poi aeroporto, parcheggio nel caos, i tassisti chiedono di intervenire sul sistema che regola le sbarre e si appellano alla Saga, la società di gestione dello scalo aeroportuale di Pescara. E poi, Giovane Abruzzese vince a Roma il premio dei talenti della moda, attestato del Capo dello Stato per Federica Paternelli e allieva della scuola di formazione pescarese. E poi, Fidas in 300, la gita dei donatori nel parco Aqualand. Saltiamo l'inserto Aquilone che riguarda tutti gli appuntamenti dell'estate della nostra regione per arrivare alla pagina che riguarda la cronaca di Montesilvano, le notizie che arrivano dalla cittadina adriatica. Si parla di immigrati, nuovo blitz all'alba, altri gruppi di senegalesi sgomberati dalla Pineta, un gruppo di 20 extracomunitari già espulsi dalle case di Via Riosto, costretto a lasciare tende e accampamenti sul Riviera. Forconi, esponente di Fratelli d'Italia, dice provvedimento giusto. E poi, festeggiati i 40 anni della manifestazione all'angolana Gaia Ciferni, la fascia di Miss Adriatico, e poi, sequestrati i 100 giochi pericolosi, venditore abusivo su Corso Strasburgo, sempre a Montesilvano, smerciava prodotti a rischio per i bimbi. In basso, due giorni per gustare i rosati d'Abruzzo, torna Cerasuolo a mare, la rassegna con 28 vini locali, che approda negli stabilimenti della Riviera di Montesilvano. E siamo alla pagina dell'Interland di Pescara e della provincia di Pescara, inutili le multe agli abusivi, bisogna andare alla fonte. Francavilla, il comandante dei vigi urbani Fabio Torrese, spiega perché non è stato sanzionato, neppure un venditore. E poi ancora Francavilla, settimana di concerti con Masini e Bennato, e oggi ci saranno sette ore di blackout nella cittadina adriatica, in questo articolo l'elenco delle vie, dove ci sarà questo blackout. Spoltore, un brevetto di Sebastiani, scelto per il contest Shine Italy. E poi guardie bloccano ladro all'Ipercop Centro d'Abruzzo. Siamo all'Inferno, in Val Pescara, in provincia di Pescara, soprattutto nella zona della Val Pescara, appunto tra Caramanico, scusate, San Valentino, Scafa, Tocco da Casauria, tutte zone che sono state investite da incendi nelle ultime 48 ore. E leggiamo proprio il sommario di questo articolo. Paura tra Caramanico e San Valentino. Il sindaco Saia, il sindaco di San Valentino, dice tre focolai vicini e in contemporanea fanno pensare a roghi dolosi. E poi parla il sottosegretario alla Giunta regionale con delega alla Provenzione Civile Mario Mazzocca che dice che le segnalazioni sono decisive. E poi la testimonianza. Il fuoco era a 30 metri da casa, ma dove erano gli elicotteri? E noi su questo problema, sulla vicenda incendi nella nostra regione, in particolare sugli incendi che hanno colpito la provincia di Pescara, andiamo a vedere questo servizio. È stata una notte di fuoco per l'Abruzzo e per gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, impegnati su due vasti fronti, uno fra Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore, di 60 ettari, l'altro a Castiglione e a Casauria, dove bruciano 40 ettari per tutta la notte. Si è cercato di contenere i roghi, evitando che le fiamme raggiungessero le abitazioni, anche con l'ausilio dei mezzi Canadair. Questa mattina, da terra e dal cielo, i Vigili del Fuoco di nuovo a lavoro nell'area con i Canadair del Dipartimento della Protezione Civile, arrivati dalla Sardegna, e che stanno effettuando dei lanci per contenere gli incendi. Al momento sono 18 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento, 4 dalla Campania, rispettivamente 3 dalla Basilicata e dalla Sicilia, 2 rispettivamente dalla Puglia, dall'Abruzzo e dalla Calabria, e 1 rispettivamente dal Lazio e dall'Umbria. La situazione preoccupa soprattutto la Col di Retti, che ricorda che nel solo Abruzzo sono già decine i roghi che si sono verificati negli ultimi giorni nelle diverse province, partendo dall'incendio verificatosi a Montesilvano lo scorso 30 giugno, per arrivare al weekend appena concluso che ha registrato ben 6 roghi solo nella zona del Vastese. A parte il pericolo per l'incolumità delle persone, dice Col di Retti, va detto che gli incendi provocano danni incalcolabili dal punto di vista ambientale dovuti alla perdita di biodiversità e di ampie aree di bosco, che sono i polmoni verdi del paese e concorrono ad assorbire l'anidride carbonica responsabile dei cambiamenti climatici. Ogni ettaro di macchia mediterranea, precisa la Col di Retti, è popolato in media da 400 animali, fra mammiferi, uccelli e retteli, ma anche da una grande varietà di vegetali che a seguito degli incendi vanno perse. Dopo un incendio sono impedite per anni anche tutte le attività umane tradizionali del bosco, che vanno dalla raccolta della legna alla ricerca di funghi e tartufi, che coinvolgono centinaia di appassionati. Una situazione critica che è ancora più preoccupante se si pensa che l'estate è appena iniziata e che l'Abruzzo è tra le sei regioni italiane che non hanno ancora mezzi aerei da utilizzare per spegnere le fiamme ed intervenire in caso di roghi particolarmente impegnativi. Dal momento che, conclude la Col di Retti Abruzzo, un elevato numero degli incendi e opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare dunque con le autorità responsabili per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi nazionali. Restiamo in provincia di Pescara perché a congiunti di Colle Corvino ci sarà la Pink Cup, il torneo di calcio femminile in nome di Luana e domenica prossima a Rigopiano di Farindola a sei mesi dalla tragedia che provocò la morte di 29 persone ci sarà un dibattito con i familiari delle vittime si parlerà di sicurezza proprio dovuta a di sicurezza e di quello che bisognerebbe fare per evitare disastri come quello accaduto a gennaio di quest'anno proprio nella località in provincia di Pescara e ci sarà al termine di questa giornata di commemorazione delle 29 vittime ci sarà anche un concerto scusate dell'orchestra sinfonica abruzzese dunque un'altra giornata nel nome di queste 29 persone che hanno perso la vita nella tragedia di Rigopiano noi ci fermiamo ora per qualche attimo andremo ad ascoltare le previsioni del tempo con Luca Mennella per sapere se questo caldo continuerà a contrassegnare le giornate di metà luglio e poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio per la seconda parte di mattino 6 siamo alla pagina di Chieti della provincia sempre dalle pagine del centro siamo in questo caso a Lanciano violenza sessuale abusa della figliastra 13 anni arrestato camionista in manette è stato denunciato dalla compagna al ritorno dal lavoro si appartava con la ragazzina e poi i casi di Charlie e Noemi il papà della bimba guardiese tutelare dice la libertà di scelta e poi a Villa Santa Maria a 18 mesi punto da uno sciame di vespe il piccolo trasferito in eleambulanza al Santissima annunziata di Chieti e sempre a Chieti c'è lo sciopero di tre ore oggi degli autisti della panoramica per i tempi di percorrenza non più adeguati noi autisti questa è la denuncia costretti ad andare veloci da come leggiamo in questo articolo a fondo pagina sul centro e da Chieti ci spostiamo all'Aquila in questo caso nella Marsica tragedia ad Ortucchio morto il bancario che si è dato fuoco il gesto disperato sull'A25 aveva 62 anni indagini sul presunto ammanco da 2 milioni di euro in un istituto di credito e poi ferisce due poliziotti arrestato clandestino era stato fermato in centro per un controllo e poi sul Mona caldo all'Amarelli la denuncia di un operaio e poi ad Avezzano la disabile che lotta con le poste un familiare per un conto 11 giorni e tanti ostacoli poi arrivano le scuse dell'azienda e poi il premio su Foletta a Roccaraso va agli eroi di Rigopiano attestati e finanzieri che intervennero in occasione della tragedia di Rigopiano ma attestati sono andati anche ad altre personalità proseguiamo con la pagina di Teramo e la provincia sempre dal centro siamo a Martinsicuro bimbo di un anno intossicato dal detersivo ha messo in bocca una capposla di liquido per lavatrice migliora il piccolo di Sant'Egidio colpito invece da meningite a Crognaleto vanno a fuoco 4 ettari di bosco a lavori vigili del fuoco e poi Giulianova 2.000 firme in difesa dell'ospedale sono state raccolte in pochi giorni nel presidio organizzato dal comitato civico e poi il caso Calabretta siamo a Pineto nuova denuncia in procura presentata dallo zio del bambino morto sul campo di calcio accuse a infermieri e autisti del 118 esauriamo qui le pagine del centro per quanto riguarda le cronache dalle province possiamo passare al messaggero anche in questo caso per andare a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del giornale oggi in edicola avevamo visto la prima pagina come sempre andiamo a vedere le pagine interne seconda pagina di cronaca regionale si parla di politica Gerosolimo assessore regionale prende campo ma non fa il picconatore vittoria alle urne in Marsica Caruso in provincia il superassessore non ne approfitta lavori ospedali le priorità rimpasto di giunta decisione dice Gerosolimo che spetta ad Alfonso e poi all'Aquila i ripostigli diventano spazi abitativi mentre per quanto riguarda la scuola la protesta degli insegnanti contro l'algoritmo dell'esodo siamo alle cronache provinciali partiamo da Pescara allarme caldo geriatria al collasso condizionatori d'aria malfunzionanti o inesistenti in corsia personale ridotto all'osso e letti esauriti ospedale infernale oggi previsioni da Bollino Rosso con livello 3 a Pescara e con temperature intorno ai 40 gradi i consigli del medico per difendersi dal caldo Val Pescara devastata dagli incendi abbiamo visto poco fa il servizio ma situazione che sta fortunatamente migliorando e poi si parla della querelle societaria tra l'attuale presidente del Pescara Daniele Sebastiani e l'ex amministratore delegato e socio di minoranza Danilo Iannascoli dice Sebastiani l'ispezione sui conti non ci fa paura la società ostenta serenità dopo la nomina di un ispettore del Tribunale dell'Impresa per verificare i bilanci 2015 2016 certi ricorsi arrivano sempre dopo un mio no a qualche richiesta di Iannascoli dice il presidente Sebastiani e poi la cronaca a Pescara barca in fiamme salvati cinque diportisti fra cui una ragazzina di 15 anni e blizze di carabinieri e polizia municipale a Montesilvano sgombero di immigrati da Spiaggia e Pineta e poi la protesta dei dializzati al San Massimo di Penne le spine della Sanità tornano dunque a protestare i malati del nosocomio Vestino andiamo ancora avanti sfollati si assegnano i primi alloggi l'Ater affidato a 15 ditte i lavori di riqualificazione delle case che a settembre dovranno ospitare 70 famiglie alta tensione al coc arrivano vigili e polizia per una lite oggi sopra luoghi di controllo in via Lago di Borgiano abbiamo ascoltato a tal proposito nella prima parte di mattino 6 il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli poi dopo le multe alle biciclette arrivano avvisi e rastrelliere le prime sanzioni hanno scatenato critiche severe niente segnaletica e spazi insufficienti per le due ruote parliamo soprattutto della zona della riviera di Pescara e poi altre notizie Pescara Jets con tanti protagonisti al via aprono la serata i Voba Sound Experience intanto proseguono i seminari al conservatorio poi a Montesilvano riapre il BR1 sui colli di Montesilvano locale che si affida allo chef stellato Re Canati proprio qualche giorno fa su questa riapertura del locale della zona collinare di Montesilvano vi avevamo offerto vi avevamo fatto vedere un servizio e poi sempre a Montesilvano torna c'era suolo a mare un brindisi con i turisti con il buon vino e siamo alla pagina dell'Aquila via libera dalla Cipe 35 milioni per ricostruire le case popolari si sbloccano i lavori di 15 complessi una buona notizia per 160 nuclei familiari fa bene sperare nella volontà del governo di finanziare l'edilizia residenziale pubblica e poi appello a Mattarella preside del convitto condannato a 4 anni i colleghi ora tornano a chiedere la grazia e poi il modello l'Aquila delegazione israeliana in visita in città per vedere i lavori del post-sidisma e poi elezioni provinciali si infiamma lo scontro politico andiamo in basso a fondo pagina il presidente del CAI scritte per rilevamento speleologico e poi l'Aquila Calcio è stato revocato il DASPO per gli 8 ultra e si chiude il caso del comunicato stampa che i tifosi avrebbero preteso dai vertici della società ancora l'Aquila l'assessore Piccinini ottimista ormai fatta per calcio e rugby le società si devono però sforzare dice l'assessore di lavorare in maniera più moderna trovando anche un minimo di redditività e poi donne in carriera si parla in questo articolo di quando la di Cosimo sfiorò il festival di Sanremo lasciamo le pagine dell'Aquila siamo a quelle della provincia in questo caso andiamo in Marsica e poi in Valle Peligna ad Avezzano muore il bancario che si era dato fuoco Domenico Martellone sessantenne di Ortucchio ha cessato di vivere ieri all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove era ricoverato per le gravi ustioni salvato dalla polizia stradale nella sua auto in fiamme nei pressi di Pescina era stato al centro di un'intricata storia presso il suo istituto di credito ancora Avezzano picchiò una sedicenne prima condanna per antidormi e poi in Valle Subequana emergenza siccità per il fiume Aterno ci spostiamo sul Mona a Masciangio di altro rinvio ma arrivano i Masp il cantiere per la messa in sicurezza della scuola elementare non riesce a partire e poi il vescovo ci ripensa sul Mona trasferimenti congelati si parla di trasferimento più o meno imminente di Monsignor Spina a Teramo e poi tornando ad Avezzano sul Crab De Angelis il neo sindaco di Avezzano chiede un incontro e poi parte il festival della Piana del Cavaliere per quanto concerne gli eventi estivi e siamo a Chieti fra poliambulatori e servizi rinasce il vecchio ospedale pronto lo studio di fattibilità già chiesto all'INAIL un finanziamento di 12 milioni via gli uffici amministrativi da via Martiri sarà messo sul mercato anche l'ex pediatrico e poi a Chieti da domenica di scena la settimana mozartiana per la diciottesima edizione Mozart e Vivaldi all'alba nella villa comunale e poi la città che muore l'ex impdap e nel più totale abbandono questa la denuncia mentre per quanto riguarda l'università il rettore Caputi faccia a faccia con il PM che indaga proprio sull'università e poi restando all'università di Chieti botte al professore denunciate due specializzande per il concorso finito in rissa una deve rispondere di resistenza pubblico ufficiale l'altra anche di violenza e siamo a Lanciano questa brutta storia di cronaca i manette per abusi sulla figliastra la tredicenne raccontato tutto la madre arrestato il padre Orco e poi a vasto abusi nell'appalto ai baschi azzurri ex giunta alla penna rinviata a giudizio a Lanciano Oniguel sindacati uniti in difesa dei 420 lavoratori a Villa Santa Maria cronaca sciame di vespe assale un bimbo di un anno che è stato ricoverato in ospedale ad Ortona rischio di contenzioso sul no al GPL Cieri di Forza Italia propone strategie bipartisan per bloccare l'impianto al porto e a Lanciano Giacinto Verna vice sindaco al posto di Valente questa la notizia che riguarda la politica Valente che ha le prese con problemi di salute e dunque almeno per il momento Giacinto Verna sarà il nuovo vice sindaco di Lanciano andiamo ancora avanti siamo alla pagina di Teramo Brucchi la ripartenza e triste mancano i soldi per le scuole il sindaco dice a settembre gli studenti troveranno la situazione immutata e poi sull'ospedale spunta l'ipotesi del terzo sito si tratta dell'area di Contrada Casalena e poi Teramo Ambiente c'è il bando per il nuovo consiglio di amministrazione a Martinsicuro l'esecutivo di Vagnoni alla Start con quasi due milioni in cassa e poi cattive maniere chiede la restituzione dei soldi con un coltellaccio condannato e poi negozianti il dilemma dei totem rischio multe fino a 400 euro per l'insegna e i cartelli pubblicitari troppo vistosi siamo alla pagina relativa alla provincia di Teramo siamo a Giulianova Cincin con notte alte e calici di stelle l'accordo sulla sicurezza tra il sindaco Mastromauro e il equestore ha permesso di sbloccare le prime due iniziative estive e poi a Pineto baby calciatore morto denunciati quattro infermieri a Roseto da oggi venti colonnine operative tutti i parcheggi a pagamento siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo però andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano la città e poi ci concentreremo proprio nell'ultima pagina di nell'ultima parte anche di Mattino 6 sulle pagine di sport sulle vicende delle nostre formazioni soprattutto di calcio pagina 3 del quotidiano la città emergenza incendi in tutta la regione canadere in azione a Caramanico e San Valentino per due roghi e allarme in tutto il centro sud e poi scuola professori abruzzesi 400 nastrini liberi alla faccia della buona scuola poi cronaca bussi sessuali sulla figliastra di 12 anni arrestato un camionista a Lanciano e poi in basso emergenza abitativa pescara niente riassegnazione per le famiglie abusive proseguiamo question time teramo capitale della zappa per il 2020 il consigliere pomante fa nera l'amministrazione prende in giro la candidatura della città al riconoscimento culturale e poi servizi pubblici scuola bus stipendi di autisti assistenti nuovamente in ritardo comune incapace di risolvere il problema nonostante anni di riunioni ed annunci degli stessi assessori delegati i nomi noti sono i più bravi al concorso asl politici figli di dipendenti e dipendenti sugli scudi al concorso da impiegato bandito 4 anni fa e poi ospedale unico a teramo quasi tutti d'accordo il consiglio come previsto non si esprime sulla sede basta solo che la regione lo realizzi nel capoluogo e poi politica PD il nuovo capogruppo diventa un caso libri gratis nel cratere cambiate le carte in tavola il ministero fissa paletti stringenti per chiedere l'esenzione e il sito per la richiesta nemmeno funziona e poi San Nicolò promesse mai mantenute all'ex scuola Carlo Febbo la protesta a San Nicolò appunto di Dalberto e Filipponi Università di Teramo andrà a giocare al torneo di Taiwan dopo la sfida di ieri sera vinta dagli asiatici la squadra teramana sarà ospite al torneo di Taipei e poi delegazione teramana in Canada la provvisiero assieme al di Poppa Rozi e siamo alla cronaca che riguarda la provincia di Teramo all'emergenza idrica situazione quasi al limite le ordinanze dei comuni e gli appelli del Ruzzo non sono serviti i consumi continuano ad essere troppo elevati e poi per quanto riguarda la natura una medusa rara trovata nelle acque del parco marino del Cerrano e a Campli e parliamo di iniziative estive partenza con il botto per la sagra del tartufo di Campo Balano ronde per dare la caccia al piromano del Vomano il sindaco di Castellalto assieme a volontari e forze dell'ordine pattuglia le zone più sensibili del territorio e poi frazione di Crognaleto minacciata dalle fiamme ancora una giornata difficile anche nel Teramano per gli incendi e poi in basso a Montorio impatriata ad altri tempi per i cugini della famiglia Serrani vedete nella foto tante persone per questa rimpatriata e siamo alla pagina della Val Vibrata Martinsicuro domani il consiglio di insediamento Emma Zarroli verso la Presidenza e poi ad Alba Adriatica denuncia bisse per il cane lanciato dal balcone presentata dalla Lega del Cane nei confronti di un 42enne di Alba Adriatica e poi in Vibrata apertura senza taglio del nastro per il ponte ciclopedonale a Sant'Egidio sono stazionarie le condizioni del bimbo colpito da meningite siamo alla pagina di Giulianova il centrodestra Giuliese ancora nel caos Nicoletti chiude la porta a NCD Retco lascia il tavolo e punta al civismo e poi a Mociano la palestra delle elementari pronta fra 100 giorni e tornando a Giulianova questa sera l'incontro sul pescatorello di Pagliaccetti e poi parliamo di nuoto perché arriveranno campioni da tutte le regioni alla città di Giulianova perché sabato mattina ci sarà questa importante manifestazione organizzata dalla Wisp provinciale di Teramo e dalla Wisp Abruzzo e Molise e poi pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi siamo a Roseto Roseto che chiede più considerazione dalla regione gli amministratori guidati dal sindaco di Girolamo incontrano l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci e poi a Silvi una condanna e due rinvia giudizio per la rapina davanti a un supermercato in basso torniamo a parlare anche dalle pagine della città della morte del baby calciatore il nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla scomparsa del pinetese Marco Calabretta la famiglia denuncia gli infermieri dell'ambulanza ed il perito di parte siamo alla pagina della cultura ogni giorno così vicino e sensibile gli oggetti il sogno e il tempo così Daniela Attanasio osserva la vita nei suoi versi e poi musica abbiamo visto anche dalle pagine del centro domenica a Rigopiano in occasione del sesto anniversario del ricordo della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola ci sarà una giornata di commemorazione che si concluderà in serata con il concerto dell'orchestra sinfonica abruzzese siamo arrivati così alla pagina dello sport dal quotidiano della città possiamo restare proprio su questa pagina per parlare del Teramo perché non ci sono buone notizie per quanto riguarda la formazione bianco-rossa perché chi nel lato va al Padova altro boccone amaro Di Paolo Antonio saluta e passa alla Ternana e dunque Teramo che deve rivedere i suoi obiettivi per quanto riguarda l'attacco noi andiamo a vedere il servizio realizzato da Jacopo Forcella proprio sulle manovre di mercato della società bianco-rossa Lorenzo Di Grazie si appresta a diventare un nuovo giocatore del Teramo ieri pomeriggio l'incontro con il calciatore che attualmente è sotto contratto con Lascoli ma la scorsa stagione ha indossato la maglia della maceratese nel giorno in cui il diavolo saluta dopo 5 stagioni Alessandro Di Paolo Antonio che va alla Ternana chiude praticamente la trattativa per quello che almeno nelle intenzioni dovrebbe diventare il suo naturale sostituto De Grazia classe 1995 può rappresentare un jolly per il Teramo dalla mediana in avanti perché sa adattarsi anche come uomo a ridosso della prima punta oltre a essere un'ottima mezzala molto probabile che il giocatore a ore rescinda il contratto che lo lega all'Ascoli per poi essere libero di accasarsi senza problemi al Teramo che lo attende ma che nel frattempo dopo Calore Milillo e Paolucci dal Pescara accoglie anche Cristian Ventola che da ieri è ufficialmente bianco-rosso di fatto è stata la primissima trattativa intavolata dalla società ma che si è concretizzata formalmente solo ieri Ventola anche lui ex baceratese arriva dal Pescara e potrebbe ritrovare proprio l'ex compagno di squadra De Grazia già nel ritiro che scatta sabato dal Fedena la vera sfida adesso riguarda Matteo Chinellato sarà un testa a testa con il Padova che al Teramo ha appena soffiato Roberto Candido per accaparrarsi l'attaccante libero dopo l'esperienza a Como i biancoscudati offrono di più a livello economico e la prospettiva di rimanere vicino alla sua treviso il Teramo dal canto suo ha avuto un contatto diretto con il giocatore e il suo entourage per presentare le linee guida del progetto che girerà molto anche attorno alla sua figura di realizzatore non è una strada affatto semplice ed ecco perché il diavolo pensa anche a possibili alternative in caso di risposta negativa una situazione che potrebbe essere più chiara nella giornata di oggi quando Chinellato che si è preso qualche ora per riflettere potrebbe decidere del suo futuro intanto si lavora per gli addi qualche piccolo intoppo per Sanzovini ma era una condizione abbastanza prevedibile sono tanti ancora gli elementi che non fanno parte del progetto e che il ADS Giorgio Repetto cercherà di convincere a trovare quanto prima un'altra sistemazione ovviamente il servizio realizzato ieri da Jacopo Forcella poi in serata la doccia fredda come abbiamo visto anche dal quotidiano la città perché Chinellato ha firmato per il Padova siamo alle pagine dello sport del centro parliamo del Pescara Pescara arrivi sondoli ripetute dieta ecco la cura Zeman la giornata tipo il sollievo nelle vasche d'acqua gelida e poi il 37enne Campagnaro verso il rinnovo del contratto in basso parla il neopreparatore dei portieri del Pescara Guido Nanni fortemente voluto da Zeman il nuovo preparatore dei portieri il pupone tradirebbe la Roma solo per il Boemo ma pensare a ovviamente Totti a Pescara è diciamo quasi fantascienza Pescara che giocherà la prima partita la prima uscita della stagione venerdì e non sabato vediamo altre notizie quello che proprio vi stavo dicendo anticipato a venerdì il primo test con i dilettanti del Rivi Sondoli e poi Sebastiani in bici su strade d'Abruzzo la passione del presidente del Pescara proprio per le due ruote tra l'altro è possibile effettuare passeggiate in bici con la mountain bike proprio a Rivi Sondoli dove ci sono particolari sentieri adatti agli appassionati della mountain bike e poi si parla del neotecnico della formazione Biancazzurra Massimo Epifani neotecnico della formazione Primavera che sta studiando proprio l'allenatore del Pescara Zeman Epifani che sta dando una mano anche al tecnico Biancazzurra nella difficile gestione di quasi 40 atleti e poi la dirigenza in ritiro perché Pavone dà il cambio a Sebastiani dunque una presenza dei dirigenti fissa praticamente nel ritiro di Rivi Sondoli siamo alla pagina dedicata al calcio di Lega Pro di Serie D Lega Pro Teramo gli indesiderati non andranno ad Alfedena la società rinuncia a convocare quei giocatori che non rientrano nei piani e il Padova soffia gli obiettivi di mercato e Biancorossi presi chinellato e candido poi Serie D l'Aquila iscrizione al sicuro è stata perfezionata ieri e il sindaco ringrazia proprio il presidente Chiodi Lavezano tratta il bomber brasiliano Dos Santos e poi eccellenza e promozione Chieti si rinforza con Patacchiola andiamo a vedere l'altra pagina di Sport una doppia pagina per parlare del pallone di altri tempi con una intervista a tutto tondo a Toni Gianmarinaro ex tecnico grande giocatore che parla in questa intervista del grande Torino di un calcio che prima era sicuramente più umano l'ultima pagina di Sport riguarda il ciclismo la Marcord taccone di Luca e Marzoli trionfe abruzzesi al Matteotti da Ricci ed Albanese ecco chi ha fatto la storia della classica pescarese che domenica a Pescara domenica 16 luglio a Pescara vedrà la disputa della sua settantesima edizione andiamo a vedere per chiudere le pagine dello sport del messaggero prima di salutarci Pescara la lista di Zeeman dall'attuale organico extra large la società deve rientrare nei parametri imposti dalla Lega sul numero dei tesserati soltanto 18 i posti per i giocatori nati dopo il 1995 per Rotta e Selà si possono restare in quanto giocatori bandiera Memushain partenza per Pessina non è finita il primo test poi anticipato a venerdì ma noi andiamo ad ascoltare le prime parole del tecnico del Pescara Zdenek Zeeman nella conferenza stampa che si è tenuta a Rivisondo come tutte le squadre penso che partono con le ambizioni vogliono fare il meglio possibile è normale che non a tutti riesce io spero che possiamo fare un buon lavoro anche se in questo momento siamo forse troppi però io auguro che il tempo permettendo si può lavorare bene si può creare la base per poter fare un campionato dove la squadra riesce a fare risultati e riesce a divertire e poi per me Gans è un giocatore importante sicuramente tecnicamente è molto valido poi magari l'anno scorso non ho giocato tanto perché avevo davanti uno che faceva una partita e mi auguro che riesce in servizio e riesce a confermare quello che ha fatto magari due anni fa a Roma a noi ci mancava l'anno scorso l'uno che faceva l'ora io penso che lui ha delle caratteristiche quali di lui adesso un bigliaccello per me era per pescare da quando era nostro un bigliaccello come qualità tipo di gioco è adatto a quello che vorrei fare io con i miei partiti io penso che la società è riuscita a prendere i ragazzi giovani di grosso talento questo grosso talento spero che riescono a farlo vedere io penso che su 39 giocatori io li devo vedere poi magari non manca niente io per l'anno scorso li conosco qualcuno che ho chiesto abbiamo chiesto sono arrivati e poi su altri ruoli bisogna vedere se tra questi che non conosco riescono a fare titolari e riescono a fare la squadra possiamo mettere il Pescara tra le prime cinque squadre della Serie B se non volete il prossimo anno voi li mettete perché il Pescara l'anno scorso era in Serie A quindi ci spetta di diritto poi il discorso che come ha fatto la Serie A non ci spetta io vorrei che ci sta ma quello si vede solo sul campo non è chiaro queste le parole del tecnico settantenne della formazione Bianca Azzurra Zeman parliamo di basket Roseto arriva Zampini si riavvicina a Fattori e di Buonaventura presenta il giovane Play degli Sharks con cui ha vinto lo scudetto Under 20 siamo alla seconda pagina di sport in alto chi nel lato al Padova il Teramo torna su Polidori l'Aquila iscrizione sì la cessione non ancora e poi calcio di eccellenza di Pietro Paolo a Giulianova in Porta c'è Echiodini ci potrebbe essere Echiodini poi si parla di Beach Volley il Pescarese Cappio al Mondiale Under 21 e poi ancora calcio calcio di eccellenza Petacchio l'altro rinforzo per la difesa del nuovo Chieti Serie D Lavezzano prova a stringere i tempi per il Bomber Dos Santos tornando invece in questo ping pong tra eccellenza e Serie D il Paterno formazione marsicana con grandi ambizioni piazza un colpo e prende il difensore Tabacco siamo giunti così al termine con le pagine dello sport del messaggero l'appuntamento di oggi con Mattino 6 Mattino 6 che torna ovviamente domani puntuale alle 8 per quanto riguarda invece l'informazione della nostra rete vi rinnovo l'appuntamento alle 14 con la prima edizione del TG6 ringrazio Maurizio D'Aguì in regia ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata ringrazio 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 Grazie a tutti.